Stiamo facendo bravi, si è girato proprio il pulca, non è cresciuto il rombo a Hanabi, il castiglio fuori carboni, aspetta di vederli giusti, e quindi si entra quando sono tutti ammontinati, ma il cast esperto ormai lo sa come deve fare. Eccoli, sono partiti, tra via in testa proprio il rombo dei segni, seguito dal numero 17 Remistilio, che poi prende la testa, si infila anche Bombardino di dentro, gira in testa Remistilio, secondo Bombardino, ancora avanti con un longa dopo Remistilio, Bombardino prova a dargli la via, come ti dice, Federico Arri, e il numero 5, che si è noresa, ancora Remistilio avanti, Bombardino secondo, ancora Remistilio, il manno ci circonducono, il comunicatore di l'ultimo è fatto la, vince la batteria, Arri, che ha visto il passaggio proprio Mannucci, viene su, con il numero 23 Uga, il nostro terzo, ancora Remistilio, prova Arri, vince la batteria, mentre sta tranquillamente in testa Remistilio, bene, più bene, più bene, Uga, è quello là, è vince la batteria, è rivistilio, secondo è Bombardino, è terza, è una buona senoresa, ho detto che questo è il cavallo, la batteria ci va bene, è precisa, non è stata la traccia, meglio io.